In position, fermarsi, fermarsi, fermarsi ancora, Ma inIP Partita regolarmente, con un po' di fatica ma è partita questa mia batteria Ed è la squadra della Brianza in line Si porta in testa, eccola, entrare nel settore del cambio Cambio, lungo, 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 lungo Cambio la squadra dell'Abi There Download l'esportiva caluschesi e poi bowling posizionale eccola che si presenta su una ripresa di bambini ed è la giuva linea che porta sotto e va a chiudere in prima posizione con un tempo ufficioso partita regolarmente la batteria ed è la squadra della Red Black che si porta in testa entrano nella zona a cambio ed è un cambio un po' anche questo della Red Black ma resta in testa la squadra di Cremona con alle spalle la squadra di Padova della luta di Vieta Padova e Padova è una sport accade lì che torna lì sotto ed è Red Black davanti a Padova e poi lì lo sport 39-593 fare a tutti e vediamo chi chiude per prima la porta è alto e cercato alto e cercato all'urda la squadra Vicentina ora arrivano a cambio cambia alto cambia l'unasport cambia la Benzana torna sotto la squadra del l'unasport a cavo di un ora passa al Tremando ed è l'unasport davanti a Benzana poi alto poi le altre 38-665 in position set partita la batteria allora andiamo a vedere Spinea in testa seguita da Bellusco poi partita di San Benedetti e va a chiudere Bellusco davanti a Spinea Silvia guarda fermarsi partita regolarmente della batteria ed è la polisportiva di Casier in testa davanti alla Musica Martinsicuro poi Scaltenigo poi Pettinatori San Mauro e poi al cambio cambia Casier cambia la Musica cambia Scaltenigo ed è ancora Casier in testa ingresso poi Cosica che ora passa ed è rolling Cosica Martinsicuro davanti a Casier poi Scaltenigo 37-831 in tempo Partite partite e allora in testa abbiamo la squadra della Bellusco Bellusco non è Bellusco no Fabriano scusate ed è Fabriano ora viene attaccata dal Bellusco ed è Bellusco davanti a Briolo 39-200 partita regolarmente la batteria con l'atleta del Comina che taglia dentro all'esterno Savona Savona poi Covina poi Scaltenigo poi la Menzana poi via via le altre cambia Savona cambia Covina ed è Savona davanti a Covina poi vieno le altre Rettilinio d'arrivo ed è Savona davanti a Covina grazie grazie